Reverse punta sul recruiting collaborativo, io mi fermerai solo al recruiting collaborativo, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna andare a vedere, primo, quali sono le figure che sono maggiormente richieste, in questo articolo si parla di benessere organizzativo, di profitto, di crescita, di persone, di innovazione e si cerca di vedere come tutto questo non siano solo parole, ma siano delle condizioni ormai imprescindibili tutte contemporaneamente affinché poi nelle aziende siano selezionati persone effettivamente ingaggiate, motivate e che portino valore aggiunto. Sì esatto, è molto interessante qui la focalizzazione che fanno tra hard skill e soft skill, quindi hard skill ha una serie di scout specializzati in quel tipo di ricerche più tecniche, mentre chi si occupa invece di valutare le soft skill ha un altro tipo di background e magari sono persone che nascono negli stessi contesti aziendali della ricerca stessa per avvicinarsi alla cultura, e quindi c'è questo dualismo molto interessante in questo tipo di ricerca collaborativa. Esattamente!